Siamo in via Filzi, a Lido, vicino Viale Cairoli, una delle strade più trafficate di Fano, soprattutto d'estate, per raggiungere i locali vicino al mare. Una strada utilizzata molto sia dai cittadini che dai turisti, soprattutto perché si può parcheggiare senza pagare. Ai tempi della Lanterna Azzurra la zona era molto curata e contornata da fiori. I residenti richiedono la ristrutturazione dei marciapiedi, che avendo cordoli bassi, sono spesso invasi dalle macchine, bloccando i portoni delle case, da cui diventa complicato uscire con i passeggini per i bambini e con carrozzelle per anziani e disabili. Gli abitanti della via si sono adoperati per la raccolta firme, presentata in comune, per sollecitare l'attenzione sul problema nella viva speranza di un intervento risolutivo. Qual è la situazione dei marciapiedi? La situazione dei marciapiedi è ferma a diversi decenni fa, totalmente rovinati, dove la sicurezza è fortemente compromessa. Sono accaduti negli anni tanti incidenti, la gente si è fatta male e inoltre l'assenza dei cordoli fa sì che siamo anche vittima di un parcheggio un po' selvaggio, con macchine che si avvicinano ai muri delle case e rende impossibile il passaggio del pedone. Una via super trafficata, anche con biciclette e quant'altro, occorre assolutamente porre rimedio a una situazione che non è più tollerabile e infatti siamo qui proprio per denunciare questo. Riguardo ai lampioni invece che cosa mi stava raccontando? Qualcosa abbiamo anche fatto spostare in questi anni, ma se andiamo verso la fine della via abbiamo tre lampioni proprio in mezzo al marciapiede che rende impossibile il passaggio di due persone, una bicicletta, una carrozzina e quindi bisognerebbe quantomeno porre rimedio anche a questa soluzione qui. Diciamo che il passaggio è fortemente compromesso da tutte queste disattenzioni e anche manutenzioni mai fatte. In che modo soprattutto parcheggiano selvaggiamente? Si addensa un po' la presenza di macchine, parcheggiano male perché stanno sempre sopra ai marciapiedi e noi chiamare tutte le volte i vigili a fare la multa non è che è simpatico, anzi. Io tra l'altro ho anche un passo carabile perché sono residente qui e tante volte faccio difficoltà a uscire anche di casa. Qual è l'intervento che richiedete e soprattutto secondo voi che cosa bisogna fare per fare in modo che le macchine non parcheggino in questo modo? Sicuramente bisogna almeno fare il nuovo marciapiede, almeno dico da un lato, però sarebbe più giusto da tutti e due, alzando i cordoli perché basta avere un cordolo un po' più alto che le macchine poi non è che salgono su. È chiaro che tante persone che parcheggiano, a me capitano, dicono parcheggio qui va bene, ci sono anche le persone educate voglio dire, ma non si accorgono che sono sopra al marciapiede perché il cordolo non esiste più, quindi bisogna ripristinare il cordolo, levare le buche, spostare i lampioni, mettere in sicurezza da un punto di vista sia della viabilità sia quella del parcheggio che quella pedonale, il viale. Avete fatto una raccolta firme a proposito? Sì, abbiamo fatto una raccolta firme e hanno aderito tutta la via perché ci sono molte persone anche disabili che hanno visto che il marciapiede è una cosa indecente e quindi hanno tutti sottoscritto con molto piacere perché il marciapiede in tutta la via non è più tollerabile e quindi speriamo che con questa cosa qui il comune faccia qualcosa o perlomeno venga a vedere la situazione come perché anche ieri che ha piovuto fuori di casa non si poteva uscire perché qui ci allaga anche tutto il marciapiede e l'acqua viene giù tutta qua.